Il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi è la vigilia della gara di Cittadella. Abbiamo alcune domande per lei mister alla vigilia di questa partita. Partiamo da quella di Aldo Gaggini, Corriere dello Sport, che ti chiede a Cittadella sarà una partita diversa rispetto a quella vista col Palermo. Su quel campo abbiamo una tradizione avversa, una squadra che fa giocare male gli avversali. Quali sono le contromisure a cui hai pensato? Le contromisure sono che per fare giudato a Cittadella devi ripetere la partita col Palermo. Non ci sono tante cose da dire o da fare. Dobbiamo fare una grande partita perché giocare a Cittadella è difficilissimo, è una squadra ostica, è una squadra che sappiamo benissimo che tipo di gioco fa. Cercheremo di opporci al meglio, per noi è una partita importante, non voglio passi indietro rispetto alla partita col Palermo, per cui sono curioso di vedere la maturità che ha acquisito questa squadra. Sempe Gaggini ti domanda, hai già annunciato un profondo turnover alla vigilia di questa partita, non temi che troppe novità rischino di far perdere identità e compattezza alla squadra? Sì, ma cambieremo i giocatori che sono stanchi, per cui non è che cambieremo dieci giocatori, cambieremo qualche elemento, ma penso che non cambierà niente dal punto di vista tattico, perché sono giocatori importanti, abbiamo una rosa profonda. Per cui ci saranno i cambi necessari, non una rivoluzione. Andrea Chiavacci del Tireno ti chiede qual è la condizione della squadra e se l'Ind ha recuperato. La squadra mentalmente sta bene, però è chiaro che dovremo essere pronti domani, per cui domani mattina avremo ancora un allenamento e valuterò i giocatori che hanno recuperato, che possano essere della partita. Per quanto riguarda l'Ind è ancora un po' faticato, ha bisogno di allenarsi, per cui speriamo di averlo per la Reggiana. Michele Bufalino della Nazione ti chiede come hai lavorato in questi due giorni, visto che il tempo per preparare la partita è veramente poco. In questi due giorni ho cercato di porre attenzione alla partita che dobbiamo andare a fare. Mi auguro che le scorie e anche la soddisfazione aprita col Palermo sia ormai alle spalle. Questa squadra deve dare continuità di prestazioni. Insomma, veniamo da tre buone partite, però ne voglio così più di 30, per cui non accetto passi indietro, quello che ho ripetuto alla squadra, per cui sono curioso dal punto di vista mentale, insomma dopo un mese di lavoro insieme, se hanno raggiunto quella maturità per farsi dimenticare in fretta un grande successo e pensare subito di fare un altro risultato positivo su un campo che se no diventerebbe molto complicato. Lorenzo Aliberti di Radio Bruno ti chiede qual è la cosa che ti sta piacendo di più del tuo Pisa in questo momento? La cosa che mi piace di più è la disponibilità dei ragazzi nel lavoro quotidiano, dal primo giorno di ritiro. Questa è una cosa che mi rende molto felice, però adesso domani abbiamo una grande prova di maturità e sono curioso di vedere a che punto siamo. Massimo Corsini di Punto Radio ti fa una domanda relativa alla classifica, senza guardarla come è giusto che sia dopo due giornate, però questi quattro punti raccolti delle gare interne, quanta importanza hanno nel processo di crescita della squadra e anche del gruppo? Ho già detto alla vigilia del Palermo che speravo di fare un risultato positivo, perché spero che ogni giorno aumenti la consapevolezza nelle loro qualità e nelle loro possibilità. Siamo felici, ma purtroppo ogni partita è nuovo esame e noi dobbiamo superarlo. Pensiamo alla partita di domani, domani è molto più difficile che quella col Palermo da preparare, per cui voglio veramente vedere un atteggiamento che loro mi hanno dimostrato di avere, perché in queste tre partite me l'hanno dimostrato. L'ultima domanda è di Alessandro Carugini di Radio Incontro e rivolta al mercato. Avevi detto che dopo la partita col Palermo e quella col Cittadella avresti fatto un punto con la società. Lui ti chiede qual è secondo te in questo momento il reparto dove occorre intervenire? No, ma oggi non ha senso parlare di mercato. Pensiamo al Cittadella, al mercato oggi, penseremo nei prossimi giorni.